Buongiorno a tutti. La situazione in Ucraina richiede tante valutazioni dal punto di vista certamente politico, umanitario, sociale, economico, ma penso che a un livello più profondo per noi cristiani richieda una grande preghiera, perché siamo convinti che è grazie alla preghiera che tante situazioni che sembrano un po' ingarbugliate possano trovare una vera soluzione. E tra le preghiere certamente c'è quella del Santo Rosario. E legato a questa preghiera mi piace ricordare un racconto, perché qualche volta, parlando con qualche giovane, giustamente mi dice ma che noia continuamente dire le stesse Ave Maria, continuamente, tante volte, sempre uguali. Beh, in questo racconto si racconta appunto di una ragazza che avvicina un'eremita e appunto manifesta, esprime questo dubbio dicendo ma non credo moltissimo nella preghiera del Rosario, continuamente queste Ave Maria ripetute. Quando si ripete sempre la stessa cosa vuol dire che uno non ci crede, diventa una cosa un po' meccanica, un po' automatica, priva di significato. Quest'eremita ha questa domanda, questo dubbio, si rivolge a questa ragazza e dice ma chi è il ragazzo che è accanto a te? Eh, il mio fidanzato, risponde la ragazza. E ti vuole bene? Sì, sì, me ne vuole, me ne vuole. E l'eremita continua dicendo ma come fai a saperlo che ti vuole bene? Eh, mi ha detto ti amo. E quante volte te l'ha detto? Eh, me l'ha detto un'ora fa e poi me lo dice tutte le sere. Ma tutte e tutte? Sì, tutte e tutte. E sempre la stessa frase? Sì, sì, sempre io ti amo, nulla di più. Allora quest'eremita continua dicendo però lì non ti annoia questa frase. In questo caso tu credi che questo sia il gesto concreto per manifestarti il suo amore per te. E la ragazza capisce. Effettivamente è così anche per noi. Ci stiamo avvicinando alla quaresima, il tempo di preparazione alla Pasqua. Ecco, io anche legato a questo contesto internazionale, questa situazione veramente complessa che fa soffrire tanti i nostri fratelli e sorelle in Ucraina. Ecco, propongo di pregare il Rosario. Magari non tutto subito, magari può essere prima di andare a dormire dieci Ave Maria, una decina. Ripetere sempre questa preghiera convinti che ci affidiamo alla Madre del Cielo. E una Madre del Cielo non abbandona mai, mai i propri figli. E allora con questi sentimenti vogliamo pregare quest'Ave Maria, iniziare la giornata affidandoci a lei e magari prendere questo proposito in questo tempo di quaresima. Dieci Ave Maria, prima di andare a dormire, tutte le sere, perché la Madre del Cielo accompagni, custodisca tutta la gente che sta soffrendo in Ucraina e in tutti i luoghi in cui ancora purtroppo nel mondo si combatte per la guerra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata a tutti.